Ok ragazzi ci siamo, questa è la mia casetta che abbiamo costruito nell'ultimo video di Minecraft Se non l'avete visto ragazzi ve lo lascio nelle schede e vi consiglio di recuperarlo Allora direi di sistemare prima di andare alla riscosta un paio di cosucce dell'inventario perché sto messo veramente male Dato che in realtà questo mondo lo sto giocando in una serie di Minecraft vanilla sul mio canale In cui appunto imparo un po' con voi come funziona Minecraft Non voglio fare troppe cose in video del genere in cui appunto il nostro obiettivo principale è quello di fare altro Per esempio oggi l'avete letto dal titolo dobbiamo evitare di vedere un pollo perché se vediamo un pollo il video finisce Direi di andare in giro in realtà a cercare qualche mucca perché vorrei un po' di pelle per farmi una prima armatura perché sto veramente messo male Per esempio quello che cos'è? Vediamo, non credo nulla di buono Mi guarda in maniera inquietante, vabbè ciao Vedi qua mucca! Non so quanto mi serva per fare un'armatura completa però io ne continuo a prendere un po' Tra l'altro ragazzi intanto che cerco di eliminare queste mucche vi ricordo di lasciare un like se non l'avete ancora fatto Tra l'altro già ho fame e credo che dovrò mangiare un po' di manzo crudo Ok ora va molto meglio ma soprattutto ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che quello è un pollo Che faccia di E di attivare la campanellina altrimenti vi ricordo di iscrivervi al canale